è una montagna che sale e basta era bellissima la dash di gennaia visionari benvenuti in una nuova intervista oggi sono qui con Francesco il ragazzo dei record prima persona che è stata seguita con la mentorship e prima persona che ha spaccato, io non ricordo una persona che ha fatto lo stesso risultato come io ho fatto i tempi era un altro periodo ma lui ha qualcosa dell'incredibile da raccontarci oggi ed è quindi qui per parlare un po' con me fare due chiacchiere, quindi grazie fra per essere qui grazie a tutti i ragazzi visionari che ci guarderete poi partiamo subito col chiederti chi sei, come chiediamo a tutti, chi sei, cosa hai fatto nella vita e cosa fai nella vita allora io mi chiamo Francesco e da in realtà ormai diversi anni mi mantenevo facendo soldi online ma in maniera non a questi livelli comunque con tutt'altro finché poi nel 2022 proprio a gennaio ho avuto un burnout clamoroso ho mollato tutto e ho passato quindi l'ultimo diciamo da gennaio 2022 fino ad agosto 2023 viaggiando ho vissuto in Spagna in Europa sei mesi nel sud-est asiatico dopodiché sono tornato ormai mi ero ripreso e dopo aver passato tutto quel tempo a guardare sostanzialmente il mio conto scendere ho detto ok è il momento di ricominciare a fare un po' di soldi per non finire a zero ok e quindi siccome comunque avevo c'erro già consapevole no? cioè del fatto che effettivamente l'online è un'opportunità clamorosa no? per i nostri tempi e quindi mi sono cominciato a guardare attorno per capire che cosa potessi fare per cui ho fatto una lista e un'analisi di tutti i vari business che essi sono possibili online a partire dal dropshipping eccetera eccetera finché sono arrivato a scoprire il publishing che in realtà non avevo mai sentito perché io come l'ho scoperto? tra l'altro l'ho scoperto letteralmente a caso con YouTube a forza di far lavorare l'algoritmo mi è capitato un video di un YouTuber americano e ho fatto bah sta roba sembra interessante come sembrano tutti i business interessanti all'inizio esattamente poi guardi due o tre video in più dici ah forse questo non era costantemente interessante e skipi oltre invece col publishing ho visto il secondo il terzo il quarto video ho fatto ma forse qui c'è potenzialità importante anche perché io cercavo un business che non richiedesse importanti costi per cominciare che ovviamente fosse online e poi che rientrassero nelle mie corde perché voglio dire ok che dire lavoro online è figo però se poi fai una cosa che ti fa schifo cioè in realtà è traumatico tanto vale per cui visto che poi mi sono laureato in lettere quindi c'è i libri sono proprio nelle mie corde quando ti sei laureato? mi sono laureato due anni fa ok prima di partire esatto cioè in realtà ho fatto prima sei mesi ho fatto sei mesi a gennaio da gennaio a luglio poi ok ho detto ok perfetto mi laureo ho finito la tesi laureato poi sono ripartito ok dicendo ti sei laureato in letter e i libri vabbè i libri sono nelle tue cose esattamente fighissimo anche perché qui si possono sia commissionare che scriverli e infatti in realtà li ho prodotti io i libri quindi da quel punto di vista molto bello e poi quindi è cominciata naturalmente la fase di ricerca perché io ho detto ok perfetto ci sono due possibilità o imparo da solo che vuol dire però non avere una guida fare un miliardo di errori soprattutto buttare tempo e io sentivo molto invece la pressione del tempo quindi ho detto ok cerchiamo qualcuno che mi possa insegnare e qui ovviamente le insidie del mercato sono sono molte perché è pieno di di fuffari per cui alla fine cerca cerca sono prodotti visionari mi sono mangiato tutti i video che ho messo su youtube instagram eccetera prima di entrare esatto andre nei sapacchi quindi ho fatto la chiamata poi con con Marco vi ho fatto due lunghe chiacchierate e insomma colombiato le conferme definitive quindi sono entrato comprando il corso e il pacchetto massimo di consulenze ok ma quando è che tu nel periodo da quando hai scoperto il publishing quanto ci hai messo a guardare i video a decidere a analizzare perché poi mi racconterò dopo un aneddoto di Francesco perché Francesco dovete sapere che è una persona che quando cerca 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 ma proprio un po' ossessiva infatti anche prima gliel'ho chiesto ma non mi ha risposto quindi vediamo cosa mi dice adesso quanto ci hai messo io già quando ero alla fine del mio veggio nel sudest asiatico ero a Bali ero lì che cercavo e guardavo per cui ho fatto un mesetto in cui avevo capito che il publishing ormai era proprio quello che volevo fare un altro mesetto di ricerca di video eccetera e poi ad agosto fine luglio se non lo ricordo ho comprato 2023 anche se poi siccome ero tornato da un'infinità di viaggi mi sono preso l'estate di pausa proprio così e dire ok ho preso la mia decisione adesso mi godo questa che poi sono sardo quindi mi sono goduto le spiagge e poi a metà settembre mi sono messo a guardare il corso abbiamo fatto la prima la prima consulenza a metà ottobre metà ottobre perché io ero ancora in New York mi ricordo quindi era sì 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 esattamente e abbiamo insomma mi spiegato tutta una serie di cose sulla ricerca keyword abbiamo scelto no abbiamo preso una lista abbiamo dato le liste di keyword e poi a metà novembre abbiamo fatto la seconda consulenza in cui abbiamo deciso la keyword e lì è cominciato è cominciato proprio il processo di creazione del libro che poi anche lì la keyword per i più le persone che sono nel publishing magari guardano i video gratis su youtube eccetera la keyword è solo una piccola parte di un processo di creazione che va molto oltre tutto questo no perché sì la keyword uno ha la lista di keyword ed è convinto che come ci sono i fuffari che vendono i libri già pronti che dicono ah guarda il libro nella keyword vai pubblico i soldi la keyword è solo una piccola parte di un processo che richiede tanta conoscenza tanto studio e tanto altro che c'è dietro che Francesco ha imparato in questi mesi e poi anche perché se la keyword fosse l'unica cosa non si spiega perché non vendano tutti cioè in ogni keyword ci sono centinaia migliaia di competitor però quelli che vendono sono su pochi esatto lì la keyword è solo una parte un messaggio che ti arriva che ti fa capire se puoi fare soldi o no lì in base a tanta anche analisi altre analisi che si vanno a fare la domanda che ti vorrei fare è perché hai scelto di essere seguito da me forse prima hai risposto un po' indirettamente anche già questa domanda allora sicuramente io cercavo innanzitutto una persona che effettivamente facesse publishing cioè questo per me era fondamentale che stessi ottenendo risultati molto importanti soprattutto perché cioè ci sono tanti che hanno come business principale la formazione perché magari in passato hanno fatto publishing oppure perché non sanno fare publishing e invece secondo me se uno fa publishing come business primario e poi in secondo luogo fa anche formazione diciamo è il mio uomo e quindi e quindi ho detto ok Andre e poi io volevo essere seguito da solo cioè ok il corso che ovviamente è utile per entrare nei meccanismi però poi ti accelera di 10 100 volte tanto il percorso che fai fare solamente mentorship uno a uno ecco sì perché quello ti permette anche di capire un po' la strada da seguire perché per non tutti la strada è la stessa è chiaro che sicuramente come adesso va di moda viene venduta la cosa dei libretti che fai che guadagni un euro a copia facevo proprio un discorso qualche giorno fa sul fatto che per fare 10.000 euro devi vendere 10.000 copie che sì si possono fare ma devi vendere 10.000 copie in un mare di altre persone che provano a vendere quelle stesse 10.000 copie quindi sono tante 10.000 sono tante 10.000 sì poi parliamo anche un po' di margini di quello che margini con il libro proprio per singola copia quindi siamo partiti a metà ottobre con la prima poi abbiamo fatto la seconda forse inizio metà novembre e poi e poi da lì hai pubblicato sì effettivamente dopo la terza consulenza il libro era stanzialmente pronto sì ok questo perché non perché abbiamo fatto insieme il libro ma perché hai lavorato perché hai lavorato cioè abbiamo messo le basi abbiamo capito la direzione da seguire consigli su cover descrizione cioè tutto quello che serve che è utile però è importante far capire anche chi ci sta guardando che se si vogliono ottenere risultati è l'altra parte dello schermo che deve fare il lavoro non io perché io faccio non stai promettendo di farlo esatto anche perché a me non interessa cioè io faccio il mio publishing proprio questo cioè aiutare e condividere l'esperienza è un conto fare per gli altri un altro è anche questo un punto che Francesco ha messo in campo il fatto che lui ha lavorato a testa bassa ha cercato ha studiato ha capito mi ha addirittura spiegato delle cose di quell'argomento che io non sapevo perché non avevo mai nemmeno guardato quelle cose lì quindi e quindi poi da lì la magia no? la magia? da lì la magia perché già al primo mese abbiamo fatto 3.800 dollari errotti ok e il secondo mese siamo arrivati a 16.000 16.000 16.000 e 98 dollari 93 dollari condividiamo ma con quanti libri tra l'altro? tra l'altro principalmente con uno ce n'erano due a febbraio però uno è uscito dopo è uscito dopo era in fase di lancio è uscito dalla fase di lancio adesso a marzo per l'ultimo marzo per cui ha contribuito per 1000 dollari ai 16.000 ok sui 16.000 ma condividiamo lo schermo lo facciamo vedere un po' questo è il mese di marzo aspetta che devi proprio condividermelo perché non sotto sì 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 allora aspetta un attimo vedi te stesso forse ok adesso vedo vediamo tutto ok questo mese dall'1 al 6 marzo 2300 dollari con due libri possiamo vedere qua la all to books c'è gente che ha all 250 books per fare questi numeri non serve non serve assolutamente anche perché l'ultimo mese ok l'ultimo mese 16.093 addirittura due libri possiamo vedere che abbiamo avuto una salita costante adesso lo vedremo poi andando anche a vedere la parte di gennaio magari però una salita costante dal mese di gennaio poi terminato il processo di lancio è arrivato a toccare addirittura i 1000 dollari in un giorno che è stato il 9 febbraio e adesso è tornato fondamentalmente a fare i 300 dollari al giorno perché questo perché sono entrate tante altre copie di persone esatto magari in 10 si smazzano 30 dollari a testa che sono quelli che la prima però questa è anche una cosa importante da capire essere i primi a entrare in determinate nicchie in determinate keyword con determinati poteri ci permette di eh beh di affermarci come i leader e poi entrano gli altri però comunque stanno dietro stanno tanto dietro ma tanto dietro anche perché tu sei lì in prima posizione anche le ads vengono mostrate pressoché sempre in top of search cioè anche lì ho dei dati assurdi che sono tipo il 25% di top of search eh sì quella è saper fare le ads bene senza senza sparare chissà dove e andare al laser no? esatto anche per quello cioè in realtà la mentorship è fondamentale perché uno avere qualcuno con cui far realmente vedere le tue ads sui tuoi libri senza parlare solamente in astratto no? e poi uno che ti spiega evidentemente non farle senza un miliardo di target no? e fra facciamo vedere proprio in merito anche a questo facciamo vedere magari dal primo di gennaio o dal 10 di gennaio vedi tu fai una data custom che preferisci facciamo a gennaio come si fa indietro? sì perché qui è sì esatto perché è un po' un ok al 7 al 31 c'è stato vedete questa qua è stata poi la fase di lancio che è anche una fase importante da capire e da fare perché con un lancio fatto bene riusciamo a posizionarci e posizionandoci poi andiamo a guadagnare queste cifre cioè si vede proprio a gennaio questa salita costante ma perché? perché fra ha fatto le cose bene ha un prodotto buono cioè sono tutti stessi una montagna che sale e basta era bellissima la dash di gennaio andiamo a vedere invece il custom sempre dal 7 però fino fino a fine febbraio praticamente che si vede da proprio l'idea del di come la crescita sia stata organica e forte no? perché poi di questo quanto è vestito alla fine in alz di tutto questo? tu? allora il primo mese ho fatto tipo 3.700 abbiamo detto 3.800 con 1.200 di alz e a febbraio ho fatto 16.000 con 3.500 di alz ok quindi più di un per 5 praticamente ok anche se noi poi non ci siamo più visti perché noi praticamente l'ultima consulenza l'abbiamo fatta quando l'abbiamo fatta metà gennaio forse quando ti ho detto ok alza perché noi da quando abbiamo detto ok alza poi non mi pare ci siamo visti più in consulenza comunque o a metà o a fine gennaio comunque da molto che non ci vedrà esatto e il mese di febbraio lui se l'è fatto in autonomia probabilmente c'è qualcosa che vedremo dopo questa chiamata che poteva essere sistemata magari meglio a livello di ads avrebbe potuto magari risparmiare qualcosa però comunque sia sono delle cifre enormi che non mi lamento esatto si poteva ottenere magari investendo un po' meno in ads qualcosa in meno magari ottimizzare proprio la distanza tra investito e spesa però comunque sia siamo in una dashboard dal 7 gennaio al 29 di febbraio di 19.783 dollari con due libri creati da lui cosa vuol dire creati da lui creati da lui vuol dire che ha dovuto investire perché comunque si investe in qualche cosa ha dovuto investire per la cover certo il primo libro me lo sono fatto anche formatare perché io non voglio che si facesse poi avendo imparato il secondo me lo sono formatato io invece ok è investito solo per le cover vero si gli appiù del primo libro li ho fatti io ok e tra l'altro anche qui avere il contatto di un grafico forte è quello che poi fa la differenza anche quello il software ma insomma poca roba va bene e boh possiamo terminare questa condivisione dello schermo direi a questo punto abbiamo parlato anche del costo dei libri e direi di andare in chiusura di questa intervista con un messaggio che vuoi dare alle persone magari anche un consiglio che vuoi dare a chi sta seguendo questo video che sta guardando che magari allora sì io direi che secondo me i fatti davvero importanti sono due uno è partire con la giusta mentalità cioè credendoci che il publishing realmente può far fare i soldi perché se uno dice boh sì ok vediamo chi lo sa non mette nello sforzo necessario ne il tempo che serve e poi un pizzico d'ossessione che forse no troppa però un pizzico d'ossessione secondo me non fa male certo e poi nel momento in cui si sceglie da chi farsi seguire e bisogna scegliere bene a quel punto seguire pedissequamente parola per parola quello che ti dice cioè tu Andre mi hai spiegato come si facevano le cose e io le ho fatte passo passo perché poi viene un po' non è deviato in niente non è deviato in niente letteralmente anche perché poi cioè quando tu sei quando ancora non sei nulla perché giustamente non hai mai fatto publishing quindi non puoi sapere niente cominciare a fare esperimenti dire no funziona meglio così quando invece l'esperto il tuo mentor ha detto no va fatto in un altro modo cioè non il momento per i test può arrivare nel momento in cui uno ha pubblicato molti libri sta facendo tanti soldi è ormai esperto e quindi può magari sperimentare altro però è proprio una fase che arriverà poi adesso cioè io mi tengo quello che dici anche perché i risultati grazie Dio mi dimostrano che certo certo e soprattutto prendersi la responsabilità perché Fra ok ha seguito quello che gli ho detto ma si è preso la responsabilità anche di farlo perché poi penso che la grossa differenza tra chi ottiene risultati e chi non li ottiene anche sul fatto di essere consapevoli di quanto si è responsabili per ottenere questi risultati perché le informazioni possono averli tutti ma come mai alcune persone ottengono risultati e altri no a parte essere seguiti personalmente o meno perché è chiaro che se tutti guardano un videocorso e pochi ottengono risultati perché l'unica differenza che c'è è tra chi si prende responsabilità di fare le cose e chi invece dice ma sì magari rimando però il discorso qui è proprio comprendere che per ottenere risultati è importante essere responsabili anche di ciò che si sta facendo poi seguire consigli seguire quello che viene detto per la strada dell'esperienza che già qualcuno ha già fatto dice ok segui questo sentiero perché è quello più veloce più economico che ti fa fare soldi e te ne fa risparmiare però Francesco alla fine ha creato un business che adesso alla base dei risultati che sta avendo è un business da 9.000 8.000 euro al mese iniziato effettivamente 3 mesi fa nemmeno 3 mesi fa 2 mesi fa ha iniziato a studiare 5 mesi fa ha pubblicato il primo libro 3 mesi fa circa ok e poi da lì però è questo è partito tutto va bene grazie mille a te sia per insomma tutto quello che mi hai segnato sia per avermi ospitato qui sul canale grazie a te fra per aver condiviso anche tutto questo messaggio importante con tutti quindi a tanti successi a tante altre dashboard e ci vediamo magari faremo un'altra intervista ai 20 o 30k mensili chi lo sa vedo l'ora dai ciao fra grazie mille ciao ciao